Lea Gel produce e commercializza ingredienti per la gelateria. Ci piace definirci un'azienda per molti ma non per tutti, infatti il nostro claim è qualità superiore per il gelato artigianale. Abbiamo portato tante novità come ogni anno, anche quest'anno a SIGEP 2019. Partiamo da quelle, se vogliamo, più golose, dedicate alla gelateria in particolare. Parliamo di variegati al cioccolato bianco con lamponi croccanti, parliamo di gusti che fanno l'occhiolino al mercato internazionale, come lo Speculus, ecco, ad esempio, o variegati molto più, se vogliamo, naturali che tendono a replicare delle lavorazioni spesso homemade, parliamo del variegato al limone con scorte. E in più abbiamo portato un grande progetto, decisamente rivolto al mercato internazionale, che è l'Aislatte e Smoothies. Facciamo per la prima volta un percorso diverso da quello tradizionale, entrando anche, dando la possibilità con questo prodotto di entrare anche nelle caffetterie, e non solo nelle gelaterie, quindi un prodotto davvero interessante, anche dal punto di vista delle opportunità di business che si possono fare. Stiamo parlando di una bevanda fatta a strati, dove abbiamo per primis, in primis, un prodotto di punta per l'Eagel, che è l'overia, alternato con latte, caffè, ghiaccio, panna montata, una cosa molto golosa sicuramente, ma l'Eagel non ha preferenze sulla presenza, quindi è un'azienda sicuramente internazionale. Diciamo che negli ultimi anni i mercati per noi molto interessanti sono sicuramente il Medio Oriente e l'Oriente, quindi è la Cina. L'Eagel è dal 1991 che partecipa a CIGEP, possiamo dire che nasce in qualche modo insieme a CIGEP, e CIGEP la accompagna in questo percorso di crescita, è una crescita che la vede protagonista sul mercato internazionale, quindi la vede protagonista in Europa, in America e in Oriente. Sicuramente la scelta di partecipare anche nel 2019 alla quarantesima edizione di CIGEP ha l'obiettivo di internazionalizzare ancora di più la nostra azienda. CIGEP è un evento, è l'evento, ci piace dire, che è l'evento principale per il nostro settore, perché è la fiera più importante del mondo della gelateria, e non potevamo mancare ed è un'occasione, una nuova occasione per incontrare nuove opportunità di business per noi, che vengono da tutto il mondo, veramente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.